Ok, siamo su Genshinobanet e oggi andiamo a cercare, come si chiamano, gli Electroculus. Possiamo andare qui, facciamo la Z, ok, me l'ha trovato a quanto pare. Ah, proprio vicinissimo, va bene, sarà molto un collage, spero che verrà molto streamizzato come video, perché so che registrano molto, perché me ne servono 7 di Electroculus. Dici, ma perché? Eh, per il collezionismo, per una chiave, per il tempio, quello con l'Uxur's Chest, ma comunque è molto utile. Prendiamo la nave, perfetto, e chissà ora dov'è. Speriamo che non sia nella terraferma, perché altrimenti ho preso la nave, inutilmente. Guarda quanto spazio c'è nel mare. Non me la trova ancora. Oh, ma che cosa è sta cosa? Non che se... No, vabbè, spettacolo. Ok, è molto più bello del previsto, pensavo fosse qualcosa di semplice, invece non lo è, per niente. Ma comunque non è che è difficile, però comunque c'è qualcosa di... Eh, vedi, vedi? Dov'è? No, non c'è comunque. Ma in che senso? Ok, eh... Ah, eh... Ma... Ma in che senso? Da quando? Ok, il primo ho trovato. Andiamo nella terraferma e cerchiamo il secondo. Finalmente. Oh, non posso, ok. Andiamo... Ah, forse a Sangonomia c'è qualcosa. No? Sarà sicuramente qua... Cioè, saranno sicuramente qua i ultimi, perché è la zona che ho esplorato di meno. Quindi... Esatto. Ed è esattamente davanti a noi. Andiamo da qua. Allora, è una zona che forse ho poco esplorato. È verso il centro. Mi sembra un po' strano. Forse è direttamente là. Oh, qua c'è un... Un coso. Che carino. Yes. Si esplora pure oggi. Bene. Ehm, dove è? Ancora un'altra... Ah, se qua è inesplorato vuol dire che è nell'intorno, no? Mi sembra troppo stupido che sia qui. Comunque in questi... Waypoint. Beh, è troppo stupido, infatti, ad lasciare anche waypoint grande, eh? Un mostro. C'è anche una pallina. Ah, ma io certo. Ma io qua sono venuto solamente quando devo combattere. Ma... Vedi, è mizzica. Cioè, sto... Sto esplorando l'ultima isola invece di prendere le cose. Quelle che mi servono. Che probabilmente sarà qui, sai? Secondo me. Che figo, un achievement. Questi non funzionano. Sono trocchi. Oh, guarda qua che c'è. Oh! No, niente. Non è nulla. No, invece, guarda qui. Da questa torta? Sicuro? Ma non c'è niente. Com'è possibile? Andiamo qui. Un puzzle da fare? No, già fatto. Ok. No, da fare, da fare. Sì. Ok. Oh, un altro. Ok. Ho dovuto guardare per forza la mappa. È una mappa in un sito esterno. Può essere in tre posizioni. Quindi da questa parte andiamo. Oh, un tizio. Non mi interessa. Oh, una challenge. Questa qui è... Cos'era? Quello dei barili, infatti. Certo, senza Ganyu è molto meno semplice. Non dico difficile. Però si può fare tranquillamente lo stesso. Scusate, sono distrutto. Ok. Non è finito, eh, infatti. Oh. Ok. È spuntato. Non so dove. Penso qua sopra. Come faccio a prenderlo? Non è che è dentro. È più tipo un problemone. Venti, qua è quasi essenziale. Ah no. Ok. Oh, c'è una sfida. In che senso? Guarda la... Eccolo. Ok. Grazie. Mamma mia. Sageria. Facciamo l'altro. Finalmente. Ultimo di oggi. Da questa parte. Ah, secondo me... Ah, eh sì, è lì. Non è che c'è secondo me lì. Come ho fatto non vedere l'ora prima? Cioè, ci sono passato letteralmente, penso, no? Investiga. Andiamo. Non è che ho 20. Eh, l'hai preso. C'è una cosa che però voglio fare prima di andare. Per staccare. Attivare tutti questi. Non so che funziona. Però sarebbe figo. Ma li attivare tutti e due. Eh, che ho fatto? Gli ad un premio? Tipo? Ruota. Ora funzioni? Non funzioni. Perché devo ruotare anche l'altro? Può essere? Vabbè, comunque. Eh, io stacco. Penso che... Eh, oddio, penso. L'obiettivo è un altro, però. Va bene lo stesso, quindi... Adios. Grazie. Grazie.